Un incantevole ambiente, affrescato, la cui tecnica a trompe l'oeil lascia intravedere porzioni di cielo tra le balaustre, le colonne e i capitelli. Tutto ciò si trova all'interno della stazione di Porta Nuova a Torino e non tutti i torinesi ne sono a conoscenza, anzi, credo molto pochi. È una sala d'attesa di prima classe, progettata nel 1864 per ospitare la famiglia reale, che aspettava di prendere il treno. Ha un'ampiezza di 75 metri quadrati ed è stata progettata dall'ingegnere Alessandro Mazzucchetti. Le decorazioni e gli affreschi sono di alcuni dei pittori ed artisti preferiti da Casa Savoia, tra cui Francesco Gonin, che ha decorato le pareti. Oltre ai dipinti, l'interno della sala Gonin ospita splendidi mobili, boiserie e un magnifico lampadario in vetro di Murano.